Sono state sensazioni molto positive perché alla fine Andrea è una grande piazza, è una buona squadra, buonissima squadra, sono state sensazioni molto positive. Domenica contro la T-Maltamura avete dimostrato di voler a tutti i costi la vittoria, quanto sono stati importanti questi tre punti? Fanno numero questi punti perché alla fine la classifica è molto corta, poi noi tutte le partite dobbiamo pensare così che vogliamo vincere tutte, non ci poniamo limiti, è giusto che ci mettiamo questo spirito e questa voglia. Mister Panarelli ti conosce bene, ti ha voluto a tutti i costi, cosa ti chiede in particolare? Alla fine sono le solite cose che abbiamo lavorato insieme, le cose che chiede a chiunque di noi, l'attenzione prima di tutto, la voglia e la determinazione. Domenica arriva un'altra gara difficile, tu conosci bene i campi campani, quanto sarà difficile affrontare il Portici? Guarda, le campani fanno sempre i loro campionati, specialmente giocare in casa loro è molto dura, però alla fine le partite si giocano e noi facciamo la miglior partita.